Volevo parlare di una box che mi ha davvero sorpreso, la Fucai 213 o Fucai 213, poi dipende dalla pronuncia. Io l'ho definita la grande tra le piccole, perché rispetto a Cuboid, Wismac RX200S, rispetto a tutti i prodotti Elef, quindi la 100, la 200W, Pico, Pico Mega, è certamente la migliore. Perché? La pulsantiera è solida, veramente è solida, consumi di batteria buoni, grande robustezza costruttiva, molto affidabile, ma non parlo del controllo della temperatura, perché riguardo al controllo della temperatura non va alla grande. Però il controllo della temperatura, anche se io consiglio di non usarlo, perché? Perché si devono montare, mettere resistenze in titanio o in nickel chrome, il titanio fa male, il nickel chrome non ci sono studi seri sull'argomento, quindi per ora io consiglio di usare sempre resistenze in camper. Quindi, però, quando si usa resistenze in camper, questa qua è la migliore di tutte. Vista come, comunque, di sicuro come una super box, perde comunque sicuramente il confronto, quindi stiamo parlando di tipo l'SX Q-Class, perde di sicuro il confronto. Però, a quei prezzi là, a questo prezzo qua, è veramente imbattibile. Perché? Perché c'è anche una funzione che le altre non hanno. Allora, innanzitutto, 5 volte per accendere, 5 volte velocemente per spegnere il tasto Fire. Allora, se noi figgiamo il tasto Fire e questo pulsante qua, decidiamo a che vattaggio iniziale, quindi lo spunto iniziale, quanto vogliamo farlo andare. Quindi, che significa? Che se io fumo a 50 watt e metto che lo spunto iniziale per tot secondi, quindi 2 secondi, mi deve essere a 60, quindi parte a 60, un po' come la scelta iniziale, la scelta per uno che viene dalle analogiche tra un meccanico e un elettronico. Oggi, tramite questa funzione qua, non solo oggi, ma se uno doveva spendere qualcosina in più per avere un prodotto del genere, riesce comunque a garantire la forza di una meccanica. Quindi, la scelta è, su questa qua, è davvero, fate la scelta migliore. Che dici, Davide, di questa box? Lui non parla, è timido. Che dico? No, sicuramente il ricurso iniziale è affatto bene, paragonandola alla mia 6X. E' una box con i controcogliumi, diciamo. Ok, ho detto tutto. Certo, anche il mora di misurga è un'ottima copiata, il mora di 25. Vabbè, ma non stiamo parlando di rigenerabile, stiamo parlando della box. La box la consiglio a tutti. Ok? Si, può andare. Ok. 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 Ok.